Musica Buonasera, nelle breaking news di Teletruria parliamo ovviamente dell'incidente alla galvanica Formelli. Dagli ultimi riscontri l'area non presenterebbe problemi, unica attenzione è l'attingimento di acqua dalla chiana. Resta comunque inteso che gli esami di ARPAT continuano. Da segnalare che la procura non procede per inquinamento trattandosi di un fatto assolutamente fortuito. E con una nota il comune di Arezzo ricorda le misure precauzionali nella zona vicina all'incendio scoppiato in via Chiari. Le limitazioni riguardano lo stazionamento delle persone nelle pertinenze esterne e l'apertura delle finestre delle abitazioni. Si raccomanda di non consumare verdure ed ortaggi coltivati in loco, non utilizzare l'acqua dei pozzi, tenere gli animali in ambiente chiuso e non stendere i panni fuori dalle abitazioni. I titolari delle attività produttive limitrofe dovranno limitare lo stazionamento del personale nelle pertinenze esterne e garantire la reazione dei locali. E sull'incendio alla Galvanica Formelli è intervenuto anche il segretario della FIOM CGL Alessandro Tracchi. Il sindacato dice che è disponibile ad attivare ammortizzatori e misure necessarie a supportare i lavoratori. Anche per le breaking news è tutto e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.